salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video vi ricordo di iscrivervi al canale di lasciare un like allora fiorentina di commisso sta nascendo come sta nascendo arrivano i primi dettagli lunedì innanzitutto ci dovrebbe essere il closing e ufficializzerà l'arrivo di commisso alla fiorentina dopodiché verrà licenziato vincenzo montella con ricca buona uscita e verrà preso un nuovo allenatore nuovo presidente viola rocco commisso tra l'altro di unice calabrese ha grande stima e fiducia in un conterraneo che risponde al nome di gennaio gattuso il quale molto probabilmente lascerà al milan e quindi è probabile montella possa essere sostituito proprio da gattuso stessa cosa che tra l'altro è successo nel club rossonero si cercherebbe quindi di costruire una fiorentina più equilibrata anche se equilibrata diciamo lo era già non era una squadra molto montelliana e solida e con dei giocatori di di talento davanti per costruire questa squadra ci saranno tre figure fondamentali che sono legate due sono legate al nuovo presidente viola nuovo presidente viola rocco commisso una invece si trova già all'interno della società qui si trova già all'interno della società Giancarlo Antonioni che verrà promosso al ruolo di vicepresidente e avrà una importanza molto rilevante per quanto riguarda comunque anche il calcio mercato e la gestione tecnico sportiva il direttore sportivo vero e proprio però non sarà Antonioni ma sarà soliano soliano ex palermo un profilo che piace molto a commisso e due si conoscono da anni è la figura ritenuta giusta da il nuovo presidente viola per fare il calcio mercato alla fiorentina dunque anche corvino sarà licenziato possibile una buona uscita però può darsi anche la nuova fiorentina non dovrà pagare niente perché magari corvino si accorderà con il lecce ci potrebbe essere anche una rescissione consensuale del contratto di corvino e infine dobbiamo chiudere appunto con la terza persona che aveva annunciato prima che contribuirà comunque alla alla costruzione della squadra viola voi tutti sapete che fare i ramadani è stata una figura fondamentale nella fiorentina della valle di corvino nella costruzione della squadra ed ecco anche commisso a un agente di grande fiducia una persona molto influenza molto influente nel mondo del calcio e può svolgere un ruolo alla ramadani dei tempi della valle questa persona è andrea d'amico e comunque un intermediario molto bravo e sa fare bene il suo lavoro e che potrebbe quindi dare una mano alla fiorentina alla ricerca di opzioni interessanti a me non fanno impazzire questo tipo di figure nel calcio e la abolirei però ormai il calcio moderno è così quindi per costruire una scuola valida ad essere abbastanza potente anche giusto di potersi circondare di queste persone e però siano valide che un minimo ti diano un aiuto quindi se d'amico può essere utile che ben venga e con questo disamina ragazzi vi saluto spero sia tutto chiaro e che il video vi sia piaciuto noi ci vediamo nel prossimo video